Il futuro è una parola potente, è una parola potente, è una parola potente. Quanto fragile? Quindi per usarla o per non usarla o per darne un peso bisogna vedere dove la si usa, in quale contesto la si usa. Pensiamo all'Italia ad esempio. In Italia è stato fatto un sondaggio dieci giorni fa e questo sondaggio ha mostrato come l'11,4% degli italiani, pensando al proprio paese, ha un pensiero positivo. Tutti gli altri comunicano rabbia, rassegnazione, disaffezione. Questo vuol dire che quando gli italiani, o in generale, quando un paese che è a un livello di sfiducia così alto, guarda il futuro, non necessariamente pensa al futuro come una cosa positiva. Karl Popper dice che il futuro dipende da ciascuno di noi. Io sono molto, molto contrario all'idea del futuro come qualcosa di autoassolutorio, per cui a un certo punto, qualsiasi cosa facciamo, qualsiasi cosa non facciamo, ci sarà un futuro, per forza migliore, dove le cose automaticamente verranno fuori bene. Dobbiamo riprenderci il controllo della parola, dobbiamo considerare appunto che la parola futuro dipende da noi. La parola futuro quindi è una parola per forza positiva? La mia risposta è no. La positività della parola futuro dipende da alcuni aspetti. Io ho provato a isolarne tre. Il futuro per me è nella parola dati e non più e non solo nella parola creatività. Il futuro per me è la parola condividere e non è più la parola nascondere. Il futuro per me è la parola disruption, che vi spiegherò meglio fra un po', non è la parola chiedere il permesso. Partiamo dalla prima. Ogni secondo su internet vengono pubblicati 3.300.000 post, ogni secondo. 3.300.000 like anche, 142.000 tweets, 120 ore di video su YouTube, ogni secondo. Siamo nell'era dei dati. Non usare i dati vuol dire perdere la bussola. Non usare i dati è una colpa oggi, non è più un'opportunità mancata, è una colpa. Prendere decisioni senza dati è sbagliato. Questo vuol dire una cosa. Vuol dire che oggi, secondo me, va rovesciata il percorso logico dalla creatività ai dati. Oggi la creatività non ha più senso senza che i dati guidino, diano la strada. Non ha più senso pensare al colpo di genio o all'intuizione, altra teoria, secondo me, autoassolutoria per quanto riguarda l'Italia, cioè che a un certo punto ci sarà qualcuno o qualcosa che tirerà fuori il colpo di genio e ci salverà. Oggi bisogna lavorare con i dati e bisogna muoversi all'interno in un contesto di realtà. I dati che abbiamo visto prima sulla sfiducia ci fanno capire come, senza considerare la realtà, la nostra idea di futuro sarà sempre e comunque sfocata. Questo non vuol dire che la creatività deve sparire. Vuol dire che la creatività deve cambiare obiettivo. La creatività deve mettersi al servizio dei dati. Pensate ad esempio a una cosa. Il 47% degli italiani è analfabeta funzionale. Questo vuol dire che quasi un italiano su due sa leggere, sa scrivere, ma non saprebbe farvi la sintesi di quello che ha appena finito di leggere. Per parlare con questo 47% degli italiani, i dati sono fondamentali e sono ancora più importanti i metodi di visualizzare questi dati. Immaginate i dati messi, non so, in una torta o in un grafico. Quanto potrebbero aiutare la comprensione dei fenomeni? Quanto potrebbero permettere agli italiani di capire meglio la politica, di capire meglio il mondo del commercio, di capire meglio chi dice la verità e chi no? Quindi creatività al servizio del dato e non pensare a creatività come una stella polare che ci salverà senza alcuna connessione con la realtà. Il punto numero due è la condivisione, è una parola che chi parla di futuro non può non utilizzare. Pensate a una cosa, pensate ad esempio a quanto ognuno di noi, nelle proprie piccole o grandi che siano reti di relazioni, tra gli amici, su Facebook, può incidere positivamente o negativamente sulla reputazione di qualcuno o di qualcosa. Oggi chi condivide ha un vantaggio rispetto a chi nasconde. Oggi la forza muscolare che serve o poteva servire prima a coprire ciò che magari un'azienda non voleva che si sapesse, è sempre meno importante. Stiamo passando dal capitalismo in termini meramente economici, al capitalismo basato sull'escambio, ma soprattutto all'economia della reputazione. Pensate ad esempio a Wikipedia. Wikipedia è ormai diventato un bene comune, si basa esattamente su questo. Pensate a servizi come Airbnb che vi permettono di affittare casa di una persona basandosi prevalentemente sulla reputazione che gli altri hanno dato lui rispetto alla sua capacità di essere un padrone di casa accogliente o di avere un'abitazione adeguata. Kickstarter è un servizio che permette a ciascuno di noi di donare del denaro per aiutare un progetto a nascere. E questo vuol dire una cosa, vuol dire prima di tutto che chi condivide ha un vantaggio su chi nasconde. E vuol dire che chi oggi vuole comunicare, vuole entrare nel futuro e vuole farlo guidando il processo deve accettare l'idea che la propria reputazione deve essere costruita, negoziata giorno dopo giorno. La terza parola è una parola che avrei voluto non utilizzare in inglese perché avevo voglia di parlare in italiano ma non ho trovato una traduzione altrettanto efficace. La parola è disruption, in italiano potrebbe essere resa con disordine, caos o sconvolgimento. Per spiegarvela vi faccio un esempio importante. Nel 1455, grazie a Gutenberg e all'invenzione della stampa, siamo entrati da un nera all'altro. Prima dell'invenzione della stampa la cultura, il sapere, l'educazione era una questione di nicchia. Poi la cultura, il sapere, l'educazione e la lettura sono diventati un fenomeno di massa. Oggi, a mio avviso, siamo in una nuova rivoluzione come quella lì. Una rivoluzione che si basa su un assunto. Se prima, con Gutenberg diciamo, chi scriveva era chiaramente diviso da chi leggeva, chi produceva era chiaramente diviso da chi consumava, oggi questa distinzione viene meno. Quindi oggi siamo tutti potenziali produttori, potenziali consumatori, ma soprattutto siamo tutti potenziali creatori o distruttori di reputazione, di capitale e quindi di futuro. Ovviamente questo ha un lato positivo, cioè ognuno di noi ha più potere di prima, ma ha anche un lato negativo. Come tutte le grandi rivoluzioni, c'è qualcuno che vince e qualcuno che perde. Ancora una volta, torniamo al dato di realtà. Il futuro vuol dire anche avere 2 milioni di posti di lavoro in meno tra gli under 34 negli ultimi sei anni, vuol dire anche doversi confrontare con il 44,2% di disoccupazione giovanile. Il futuro vuol dire, appunto, ricordarci questo, ricordarci che ad alcuni la parola futuro spaventa, non è più una parola positiva. E questa è una cosa che ha in comune con un'altra parola altrettanto potente, altrettanto fragile, che è la parola cambiamento, che spesso va insieme alla parola futuro, e che come la parola futuro non ha una certezza, la certezza dipende dalla volontà, dalla capacità, dallo studio, dalla forza che ciascuno di noi ci mette dentro. Come si combatte questa spirale? O meglio, come si riesce a portare la nostra vita, il futuro, nella direzione giusta? Prima di tutto, non aspettate che qualcuno vi salvi. Il futuro è questa cosa qui, almeno in Italia, ma direi non solo in Italia. Ci sono tante organizzazioni, piccole o grandi, commerciali o meno, che oggi non hanno la forza di prendere qualcun altro, di assumere qualcun altro, di dare fiducia a qualcun altro, perché sono totalmente impegnate a cercare di resistere alla crisi, al fallimento. Spesso sono destinate a fallire perché non hanno studiato, non hanno innovato, hanno perso l'occasione. Probabilmente sarebbero salvate da chi, magari, porta competenze dentro, ma non hanno né la cultura né, a certe volte, l'umiltà di portare dentro questo genere di persone che potrebbe salvare qualcuno. Quindi non aspettate che qualcuno vi salvi. Se avete una buona idea, non pensate che qualcuno per forza l'accetti, andate per la vostra strada, perché il contesto è questo oggi, non possiamo ignorarlo. Punto numero due. Mettete insieme, studio. Grazie. Punto numero due. Mettete insieme lo studio, la conoscenza dei vostri limiti e una buona dose di faccia da schiaffi. E la continuità di quello che vi dicevo prima, molto spesso ci sono aziende, ci sono politici, ci sono culture, pubbliche amministrazioni, che non sanno nemmeno di avere bisogno di un certo tipo di competenza, di un certo tipo di lavoro e di un certo tipo di futuro. Hanno bisogno anche di visione, che qualcuno gli porti la visione dentro. Provate a rovesciare la prospettiva, non vi aspettate che qualcuno vi venga a chiamare e abbiate un po' di coraggio, un po' di faccia tosta. Anche aziende molto grandi, molto innovative, non perdono l'occasione di mettersi in gioco e questo è uno sforzo che bisogna fare tutti e che ognuno di noi deve poter fare. E il punto numero tre, con cui mi congedo, ed è una cosa a cui tengo molto, è l'esercizio del diritto del mogugno. Cos'è il diritto di mogugno? L'ho scoperto in questi giorni leggendo un'intervista a Renzo Piano, un architetto di fama mondiale. Renzo Piano vive a Parigi, ma ha deciso di donare il progetto di riqualificazione del lungomare di Genova gratuitamente alla città. Per spiegare le ragioni di questa scelta, che a mio avviso sono la perfetta sintesi di quello che ho detto finora, cioè i dati per realizzare un lungomare, la condivisione, intesa come appunto prendo un'informazione e la metto a disposizione di una comunità, disruption, perché rifare un lungomare cambia per sempre il volto di una città, ha molto a che fare con il concetto del diritto di mogugno. A Genova i marinai, in passato, contrattavano le loro prestazioni con il padrone, esercitando, se volevano, un diritto di mogugno. Cioè, potevano essere pagati a prezzo pieno, ma non potevano protestare, e invece potevano essere pagati a un prezzo più basso, ma in cambio del diritto di critica. Secondo me, ed è la mia personale visione del futuro e la condivido con voi, il futuro vuol dire avere il diritto di mugugnare e ritagliarsi il diritto di mugugnare, perché il diritto di mogugno oggi permette a tutti noi di essere liberi, di essere liberi di criticare e di portare il futuro un po' più dove vogliamo noi. Grazie. 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 Grazie.